fin tv a cinè le giornate di cinema di riccione 2018 nostro ospite beniamino placido head of theatrical di notorious pictures ciao beniamino bentornato allora questa settimana suona e canta per la prima volta in italia eminem quindi parliamo un po di rap city of lies 4 ottobre l'ora della verità si preannuncia come un titolo forte del vostro esatto soprattutto come hai detto bene l'ora della verità che è il sottotitolo che abbiamo aggiunto proprio perché secondo noi ma soprattutto secondo il regista johnny depp forest whittaker è arrivato finalmente il momento di dire la verità su quello che è successo relativamente alla morte di tupac e di notorious big che rimane ancora ad oggi uno dei più grandi misteri permettimi di dire della storia della musica noi abbiamo avuto la fortuna di vederlo questo film già dalla sceneggiatura ce ne eravamo innamorati ma una volta visto siamo stati ancora più felici della scelta che abbiamo fatto perché l'abbiamo comprato direttamente leggendo lo script e devo dire che c'è un johnny depp che finalmente torna a quelli che sono i fasti che l'hanno portato ad avere tre nomination agli oscar forest whittaker è inutile aggiungere altro vista la sua bravura allora in questo caso entrambi interpretano personaggi realmente esistiti è una storia vera perché è tratta dal libro scritto dal detective pool interpretato da johnny depp che è colui che ha dedicato tutta la sua vita fino poi non svelo niente ha dedicato tutta la sua vita acquista a risolvere questo intricato mistero che comunque antico ci può già vede coinvolta la polizia di los angeles oltre che questa guerra tra gang che come sai nel mondo hip hop in america c'era questa battaglia reale tra la costa del west rappresentata in questo caso da tupac e la costa del east coast rappresentata da notorious big quindi ti sento preparatissimo sul rap è una materia di certo sono innamorato del rap dell'hip hop come detto eminem sta arrivando e siamo tutti pronti però veramente questo è un film è per chi che non è solo per chi ama il rap chiaramente per chi lo ama l'adorerà il film ma è un film è un thriller un bel thriller con un'indagine investigativa veramente molto coinvolgente io spero che anche tu avrai la fortuna di vederlo presto perché non ne rimarrai deluso si no infatti lo aspettiamo veramente con con trepidazione anche per il cast e il tipo di storia avete un listino ricchissimo quello che state presentando in questi giorni a riccione purtroppo non abbiamo il tempo di esaminarlo nel dettaglio ti chiedo però se vuoi sottolineare magari un paio di film che ai quali tieni particolare allora si un titolo di cui vorrei parlare dog days una commedia corale e sentimentale che uscirà in america il 10 agosto con 3000 copie quindi un'uscita wide e avrà come protagonisti vede come protagonisti quattro simpatici e teneri cagnolini i cui padroni verranno messi in relazione tra di loro proprio grazie alla presenza dei simpatici amici a quattro zampe quindi un film con protagonisti cani ma dove in realtà i veri protagonisti sono le storie che si intrecciano i destini che cambiano i guinzagli che si attorcigliano e che porteranno segmento femmini segmento femmini ma anche molto il lato femminile naturalmente gli amanti dei cani come sai in italia siamo uno dei paesi che adora cinofili del mondo forse più cinofili che cinefili guarda sì cioè veramente siamo sicuramente che abbiamo più animali domestici perché anche i gatti se la battono con i cani però è sicuramente un film ripeto si ride ci si commuove ci si emoziona perché poi ci saranno diciamo che ogni persona diventerà migliore grazie al proprio amico a quattro zampe questo devo dire che spesso succede anche nella realtà assolutamente terzo titolo terzo titolo come non finire con la beniamina la mia beniamina ma la beniamina credo di tutto il pubblico Giulia Roberts che torna al cinema dopo il fantastico successo di Wonder anche in questo caso interpreta una madre coraggio aiutami a definirla così perché è la storia di questa madre che si vede arrivare in casa proprio la vigilia di Natale il proprio figlio che era diciamo ricoverato in un centro di recupero per tossicodipendenti il ragazzo che interpreta il tossicodipendente è Luca Sage che permettimi di dire è l'astronascente di Hollywood è presente in tutti i film ultimamente nominati all'Oscar tra cui il protagonista assoluto di Manchester by the Sea è una storia commovente, drammatica ma al tempo stesso che dà speranza e anche in questo caso si dimostra che spesso la forza di una madre, la forza di una famiglia può essere molto più forte di una dipendenza brutta come quella della... Benny Sbeck resta il titolo originale? guarda ci stiamo ragionando, è chiaro che se avrà un percorso come crediamo Festival Nomination sarà difficile cambiargli il titolo, magari aggiungeremo un qualcosa, un sottotitolo, un claim per indirizzarlo stiamo valutando perché comunque non vogliamo banalizzarlo perché è veramente, ripeto ed è Giulia Roberts il personaggio ideale per interpretarla perché interpreta un dramma ma col sorriso che l'ha contraddistinta in tutta la sua carriera uscita prevista per? Natale, è ambientato alla vigilia di Natale, non possiamo che uscire in quella data grazie Beniamino e in bocca al lupo per il listino crepi Mauro, è sempre un piacere ciao grazie grazie a te